Ciao amore! Oei, ciao, sei tornato? Che mattinata, mattinata nella sala d'attesa! Ma sei andato tu? Eh sì, infatti, ti sto appunto raccontando. E che a te? Che visita soddisfacente, devo dire che è stato veramente molto molto bravo e ha curato. Allora, mi ha detto che per riprendermi dalla mia malattia ho bisogno di una convalescenza, di un mese al mare, un mese al mare per respirare lo iodio e farmi, ecco, delle camminate dentro l'acqua fresca, che mi fa tanto bene la circolazione delle gambe. E poi, e poi un altro mese, un mese in centro relax. Sai dove ci sono quei massaggiatori tanto bravi, dove c'è la vasta idromassaggio, dove si fanno i fanghi, dove c'è la doccia svedese, la sauna. È molto importante la sauna. E per finire, un altro mese, ecco, in montagna. Un altro mese. Per contrastare l'effetto dello iodio, ho bisogno di respirare l'ossigeno, quello puro, che fa tanto bene i polmoni, e fare tante camminate in mezzo alla natura con il cinguetio degli uccellini. E prendere tanto sole, il sole della montagna fa tanto bene. Eh, lo so, lo so. Che ne dici, amore? Che ne dico? 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 Grazie a tutti.